Nell'analisi del Presidente della Fondazione Astrea, Caruso, in merito alle forze di polizia, emerge che dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, dal Capo della Polizia, il Prepetto Gabrielli, tutti hanno evidenziato la necessità di aumentare gli organici proprio per rispondere agli allarmanti e dilaganti fenomeni del terrorismo internazionale di matrice zialista. Un aiuto arriva anche da parte del Ministro dell'Interno Salvini che ha fatto il Decreto Sicurezza, una vera e propria bandiera. Sì, questo 2019 si apre con tantissime opportunità relativamente ai concorsi, opportunità per i giovani che vogliono trasformare quella che è da sempre una loro passione nella realtà lavorativa di tutti i giorni. Tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria sono previste più di 12.000 assunzioni e quindi certamente un'occasione per diventare uomini e donne nello Stato. Oggi sempre di più il tema dei concorsi nelle forze armate di polizia è collegato con quella sicurezza, sicurezza dei nostri confini a livello nazionale e da minacce che provengono a livello internazionale, soprattutto quella del terrorismo di matrice zialista. Quindi occorrono persone che siano sempre più preparate ad affrontare attacchi di questo genere, anche se poi in realtà dobbiamo assolutamente prendere atto di quella che è una realtà assolutamente positiva dei nostri servizi di intelligence, forti dell'esperienza di quella che è stato il movimento delle Brigate Rosse negli anni 70 e che ha contribuito ad accrescere sicuramente le competenze e l'esperienza non soltanto dei nostri servizi ma anche delle forze armate e di polizia in generale. Oggi è importante acquisire sempre nuove competenze e è importante pertanto diventare uomini e donne nello Stato sicuramente più consapevoli di quelli che possono essere i rischi che si vanno ad affrontare. Quando si sceglie questa strada bisogna avere la consapevolezza del ruolo che si andrà a ricoprire, del lavoro che si andrà a svolgere, che ci si avvia ad una professione nella quale si sa quando si esce la mattina per servizio ma non si sa quando si tornerà la sera. Ambire ad una professione del genere significa che se un domani si viene inviato in zone a rischio anche soltanto il fatto di indossare una divisa può costituire un fattore di pericolo. Non basta pertanto farsi cullare dall'idea del posto fisso e dello stipendio certo a fine mese.